Best seller della marca, nuova Citroen C3 viene ora offerta anche nell'edizione speciale C-Series, con prezzi a partire da 17.100 euro. Le nuove versioni esaltano lo stile moderno e il carattere della compatta del double chevron, già forte di 97 possibilità di personalizzazione per gli esterni, del comfort straordinario dei sedili Advanced Comfort e dei sistemi avanzati di connettività e assistenza alla guida. Nuova C3 C-Series propone colori e materiali specifici, oltre a dotazioni complete destinate a facilitare al massimo la vita di bordo. Sovcompatto dal carattere unico e più abitabile e modulabile del segmento, C3 Aircross rinnova ora la sua gamma con inediti allestimenti personalizzati con dotazioni al servizio del comfort e della sicurezza di guida. Ordinabile con prezzi a partire da 23.150 euro, la serie speciale Ripcarl, espressione naturale dell'incontro tra due brand che offrono prodotti creativi e tecnologici. Sub C3 Aircross rafforza così, proponendo nuove caratteristiche ed equipaggiamenti completi, il suo design, dalla forte personalità ed esprime maggiormente uno stile di vita dinamico orientato all'avventura. Al prossimo episodio